Oggi, quindi se ci sono delle persone che non vi guardano, che non vi telefonano, che avete bisogno magari di un aiuto e non vi danno quello che voi vorreste, potreste veramente dare un po' fuori di testa. Quindi tra oggi e domani i gemelli sono da prendere con le pinze, va bene? Venetemi! Due stelle per il segno della bilancia, che per i gemelli ci sono delle prove da fare, no? Delle situazioni così, è vincente alla fine, perché sapete che entro l'estate, un po' come i gemelli, le cose che fate e farete andranno a buon fine, però oggi è molto probabile che qualcuno vi rompa.